buongiorno faccio questo video in risposta semmai la vedrà perché lui ha un canale enorme si tratta di neuro drum all'ultimo video che ha pubblicato neuro drum ora innanzitutto voglio dire che neuro drum è un canale che io trovo splendido mi fa morire da ridere lo consiglio a tutti è un canale ironicissimo gestito da un ragazzo che non non svela la sua identità parla parla dietro le quinte quindi non si mette in mostra si sente solo la sua voce e fa tutti dei video che sono di una simpatia unica cioè fa pisciare dalle risate e unisce a questo fare ridere però una professionalità nel fare questi video una preparazione scientifica un approfondimento che veramente ha dell'incredibile io lo straconsiglio a tutti fa video in cui sputtana ma sputtana con argomentazioni molto approfondite incontrovertibili le paranoie per esempio dei novax le paranoie dei complottari video in cui sputtana malati di mente diciamo delle più varie risme che ci sono sul web fanatici fanatici religiosi e con il suo accento romano e questa simpatia questa ironia innata che solo i laziali per carità anche a persone di altre regioni hanno ma i laziali hanno come caratteristica principale veramente è in gambissimo lo straconsiglio questo canale l'ultimo video che ha pubblicato vedo l'immagine di copertina vedo la fotografia di alcuni di una donna presumibilmente sessantenne un uomo presumibilmente settantenne e quindi caricaturizzata e scrive adesso non mi ricordo bene il titolo ma comunque ve lo linko qui sotto cinquantenni punto interrogativo la migliore generazione senza dubbio ovviamente è una presa per il culo e ironia perché il suo intento era quello di sfottere non tutti perché lui intelligentemente già nella premessa premette che non tutti i cinquantenni cinquantenni ed over cinquantenni siano rincoglioniti ma molta parte di essa soprattutto quella presente sul web che posta tutti i meme di merda meme nostalgici sapete a noi siamo la generazione di ferro noi che abbiamo fatto il militare voi che non l'avete fatto noi che ci divertivamo con la bicicletta che cazzo ne so con le marce adesso quello non l'avrà messo ma per fare un esempio tutte quelle minchiate anni 80 90 che erano prerogativa di quella generazione lì che adesso non lo sono ecco l'intento e l'intento di neuro drum è stato e e secondo me buonissimo di questo video poi però guardando questo video ed è per questo che ho deciso di fare questo video in risposta al suo sono rimasto perplesso perché ribadisco io sono il primo che mi diverto anche se a differenza sua perché ho intuito da questo video che lui deve essere molto più giovane di me a differenza sua io mi avvicino molto di più di lui ai cinquantenni anche se non lo sono ancora cinquantenne però ho notato in questo video un'estremizzazione secondo me troppo marcata nel senso un voler come si suol dire buttare via il bambino con l'acqua sporca questo detto che vuole semplicemente dire che quando tu critichi un qualcosa una certa categoria sociologica una certa qualsiasi fenomeno e diciamo butti via quello che c'è di cattivo o comunque di ridicolo perché in questo caso è più ridicolo che cattivo ma butti via anche il buono quindi il bambino con l'acqua sporca ecco lui in questo video parte con il militare allora premesso che io sono il per fare una battuta il tommaso buscetta del militare ai miei tempi io lo dovevo fare ma non avevo un cazzo di voglia di farlo sono sempre stato per mia forma mentis un anarchico un anarchico intellettuale noi gli anarchici quegli idioti che vanno a spaccare vetrino a fare casino e quindi sostanzialmente non l'ho fatto l'ho l'ho tagliato diciamo così con i sotterfuggi più più fantoziani nel senso che i miei genitori erano separati quindi io sono andato qua in comune a torino se avevi i genitori separati potevi fare servizio civile e non solo potevi fare servizio civile ma lo potevi fare anche nella tua stessa città cioè insomma non mi chiedete il perché ma se avevi i genitori separati alla fine del secolo scorso inizio del terzo millennio è riconsiderato diciamo un caso umano e quindi io che non mi sentivo assolutamente un caso umano anzi stavo molto più bene con i genitori separati di quando ce li avevo tutti e due in casa che litigavano in continuazione ho detto sai che c'è sfrutto questa cosa e faccio domanda per fare servizio civile e sono andato a fare servizio civile come forse ho raccontato in altri video in un conservatorio di musica qui di torino femminile conservatorio di musica di torino dove tra l'altro è stato girato un pezzo del film dello storico film di dario argento profondo rosso questo è una cosa che non c'entra un calzo ma è solo per dire e lì non ho fatto un cazzo non ho fatto un cazzo per dieci mesi per un anno immaginatevi in una biblioteca di un conservatorio di musica femminile a parte avere il piacere di essere immerso da donne io comunque non ho fatto un cazzo quindi quello che sto per dire adesso potrebbe avere una valenza ancora più forte nel senso che io adesso con la maturità che ho adesso a differenza di quando avevo 18 anni io tornassi indietro caro neurodrom il militare adesso lo farei ma attenzione tu in quel video dici giustamente giustamente più o meno giustamente col tuo vocione romanesco simpatico tu venivi preso a 20 anni a 18 anni in qualunque situazione tu fossi venivi preso e venivi buttato in una coserma e costretto per un anno a sentirti tutti tu uguale come delle marionette insomma non hai usato queste parole adesso non mi ricordo a memoria il tuo video ma tutti come delle marionette uno uguale all'altro a stare in questa caserma ad essere comandato a non decidere tu il cazzo che vuoi e quindi questo tutto questo lo poni come una una cosa negativa no nel senso che tu praticamente venivi de personalizzato ti veniva insegnato ad essere tutti uguali uno all'altro poi fai in questo video mette l'esempio del cubo il cubo è una cosa che quelli che hanno fatto naia il militare si vantano perché praticamente tu dovevi fare rifarti il letto della branda in una maniera particolare che veniva non un cubo ma non mi ricordo più come cazzo si chiama un parallelepipedo comunque una cosa rettangolare ed era un vanto di disciplina questo per carità sono tutte cose ridicole sulle quali ho riso anche io perché ripeto non ho fatto il militare però tu butti via il bambino con l'acqua sporca nel senso che comunque la disciplina ed è questo il motivo per cui io se tornassi indietro lo andrei a fare caro neurodrom il militare la disciplina il senso del dovere il senso anche del sentirsi tutti uguali non per tutta la vita ma per dieci mesi della propria vita un anno della propria vita ha una valenza educativa secondo me importante poi sono d'accordo con te come dici tu adesso non so se non mi ricordo se l'hai detto tu nel video o l'ho letto sotto nei commenti che in questi dieci mesi un anno di vita che i ragazzi passavano lì dentro molti di essi finivano ad ammazzarsi di canne di pasticche di bamba e via dicendo è verissimo però io ti pongo un esempio una metafora per farti capire ogni ogni situazione che ci viene imposta o che scegliamo noi di fare può essere utilizzata in modo positivo oppure in modo negativo in base alla propria dell'intelligenza ovvero se io ti do in mano un libro di filosofia di nice io dico di nice perché mi è forse il filosofo che amo di più tu con quel libro di filosofia te lo puoi leggere puoi da quello trarre degli insegnamenti e dei miglioramenti della tua vita oppure puoi prendere quel libro di nice spezzettarlo pagina per pagina copertine comprese le copertine viene anche meglio e farci tutti dei filtrini per farti delle canne oppure visto che un libro è dedicata lo puoi prendere lo puoi usare per fare fuoco nel caminetto in montagna hai capito e questa metafora è per dirti che il militare per molti è stata un'esperienza purtroppo di solo sballo di uso di stupefacenti di noia di dolore alcuni purtroppo sono stati anche bullizzati questo è indubbio ma è come vengono bullizzati anche molte persone a scuola allora cosa diciamo non mandiamo più i bambini a scuola perché purtroppo sottolineo purtroppo ci sono dei fenomeni di bullismo ecco il militare per molte persone è stato quello che hai detto tu ma per molte persone amici stretti che ho ancora adesso io ti posso assicurare che è stata una forma educativa di disciplina tornerei a ripristinarlo ovviamente no il mondo va avanti poi noi oltretutto siamo una nazione straindebitata di debito pubblico se rimettessero militare obbligatorio non so quanti costi ci sarebbero no assolutamente no non sono un babbeo boomer come quelli che descrivi tu giustamente nel video però non non lo ridicolizzerei così il militare in maniera estremista come hai fatto tu in questo video oltre a questo poi adesso cerco di tagliare per non fare troppo lungo questo video hai parlato sempre di questi boomer ridicoli che sottolino in gran parte hai ragione che sono che siano ridicoli però hai posto degli altri esempi per metterli in ridicolo del fatto che loro si vantano per esempio di essere stati presi a ceffoni dai genitori e mentre invece i ragazzi di oggi non lo sono quei meme del cazzo dove si vede la mamma con la ciabatta in mano a parte che io dico una cosa un meme un meme che parli dei boomer anni 90 e 80 che parli di vaccini che parli di fedez che parli di morgan che parli di vegani che parli di qualsiasi argomento un meme sarà sempre scemo un meme sarà sempre scemo perché il meme è fatto per colpire per colpire la pancia viscerale del maggior numero di persone possibili essere un un messaggio semplice ignorante e diretto e suscitare sensazionalismo tu hai posto alcuni meme dove appunto c'era la mamma con la ciabatta e il boomer che scriveva ecco io sono stato pestato da lei da piccolo e ne vado fiero adesso non c'è più educazione ma per carità io non voglio tornare assolutamente legittimare e non vorrei neanche tornare alle mamme che lancino le ciabatte di legno come faceva la mamma di un mio amico da piccolo nella schiena o addirittura nella testa a suo figlio rischiando anche di ammazzarlo o veramente di causargli dei danni ingenti però attenzione butti via il bambino con l'acqua sporca secondo me in quel video perché comunque è un dato reale che oggi ci sia esattamente lo scenario opposto cioè ci siano dei bambini che completamente non abbiano nessuna autorità sopra di loro autorità sia familiare che anche scolastica ma questo non è io voler fare il vecchio anche se ripeto io cinquantenne non lo sono ancora però da questo video ho dedotto che quasi sicuramente ho qualche anno in più di te non è per fare il nostalgico io sono il primo anche nei miei video del mio piccolo canale che dico sempre che bisogna vivere il presente non vivere di nostalgia e tutto però bisogna dare a cesare quel che di cesare cioè oggi c'è una totale anarchia di 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 potere una totale anarchia di potere di autorità da parte dei genitori da parte degli insegnanti gli insegnanti non sono più liberi di rimprovarare un ragazzino perché come ho detto in altri miei video ti arriva la madre tamarra quella che tu prendi in giro molto spesso nei tuoi video facendomi pisciare da ridere arriva a difendere il figlio giorno dopo scuola piuttosto che mille altre cose quindi ti faccio i complimenti comunque anche per questo video perché mi ha fatto ridere anch'esso però in questo video secondo me secondo la mia modesta opinione di youtuber io con un canalino microscopico e tu con un canalino giustamente di 130 mila iscritti che te li meriti secondo me tutti anzi iscrivetevi al canale di sto ragazzo perché veramente ve lo straconsiglio in questo video secondo me polarizzi come ti ho scritto anche in un commento e tu molto gentilmente mi hai risposto polarizzi troppo le cose detto ciò ripeto questi boomer che postano questi meme del cazzo che fanno i nostalgici noi classe di ferro noi siamo i migliori voi siete degli smiratori dollati assolutamente d'accordo con te che siano per lo più dei coglionazzi però valuta anche questa piccola correzione che ti dà un umile 40 e qualcosenne 40 e qualcosenne come me per dirti di non buttare via il bambino con l'acqua sporca nel senso che e concludo con questa chicca spirituale io pongo sempre qui nel mio canale la metafora del tao il tao come ho già detto in altri video è un un cerchio con dentro due pesciolini due pesciolini simbolizzati uno bianco con un puntino nero l'altro nero con un puntino bianco molti tamarri spesso se lo e tamarre se lo tatuano questo simbolo e non sanno neanche che cazzo voglia dire ecco questo simbolo semplicemente vuole dire che in ogni cosa in ogni istanza che può essere il bene quindi supponiamo il bene il bianco nel bene c'è un puntino di male un puntino che può essere più grande o più grosso nella realtà dei fatti di male e nel pesciolino nero che sarebbe il male c'è un puntino più o meno grande di bene la stessa cosa si può dire al di là del bene e del male per il salvabile e il ridicolo in qualsiasi cosa ridicola anche in un boomer cretino sottolineo cretino che posta dei meme cretini con delle frasi nostalgici ci può essere qualcosa da salvare e in qualsiasi invece persona e argomentazione seria ci può essere una emerita cazzata detta quindi chiudo qua questo video volevo solo fare questo piccolo appunto ricomplimentandomi ripeto con questo canale ma in questo video a mio modesto modo di vedere hai troppo buttato via qualcosa che si può salvare delle cazzate che dicono quei boomer cinquantenni in quei meme che hai postato non c'è solo della nostalgia il mondo è come dici tu è vero che tutte le generazioni hanno avuto i maturi perché un cinquantenne non è neanche vecchio un maturo a parte che in quel video poi prendi in esame anche cinquantenni, sessantenni, settantenni ma comunque ogni stagione storica ha avuto i maturi e gli anziani che si sono lamentati dei giovani questo indubbiamente hai ragione però attenzione non sottovalutare il fatto che da fine del novecento ad inizio degli anni duemila c'è stato uno scalino di rivoluzione che è stata la rivoluzione di internet che non c'è mai stato nei periodi precedenti storici e questa rivoluzione di internet e tu sei il primo Neurodrom che ci fai dei video sopra purtroppo purtroppo a fianco di tante persone che l'hanno usato e lo usano in maniera ottima internet e utile ci sono tante persone che con internet e i relativi social, telefonini o cosa sono diventati degli aberrati mentali e quindi questa generazione qua di cinquantenni che loro hanno ancora visto il mondo pre-internet vedendo quello che c'è adesso cioè non tutti ma moltissime amebe moltissime amebe non tutti ma moltissime amebe di vent'anni perennemente con la faccia puntata sul cellulare un pochettino di più li giustifico questi cinquantenni rispetto ad esempio ai cinquantenni che ci potevano essere ai tempi di Giulio Cesare nei confronti dei ventenni dei tempi di Giulio Cesare non so se mi sono spiegato bene sia con te che con tutti gli altri che stanno guardando questo video per cui io salverei qualcosa delle cazzate che dicono i boomer ti saluto se mai guarderai questo video non penso perché io sono una pulce tu sei un mega, hyper, meritatissimo youtuber metto qua sotto il video di Neurodrom consiglio di iscriversi al suo canale per quello che riguarda i miei 900 quasi 1000 gatti del mio canale mettete un like se avete capito questo video un commento se volete dire la vostra iscrivetevi al canale sgrillettate la campanellina le solite cazzate che dico sempre ciao